Ecco, una firmetta qui e tutto è a posto State guardando le mie referenze Questi sono i miei cimeli E quella è la mia squadra d'azione, ci chiamavano Yalala Ah, grazie E quello sono io Vedo, vedo Qui siamo sempre noi, Yalala In partenza per una spedizione punitiva State molto bene E questi chi sono? Contadini in sciopero davanti alla camera del lavoro Ah, scioperanti E questa qui che cos'è? La camera del lavoro, mezz'ora dopo Un bel lavoro, eh? Per ristabilire l'ordine ci vuole la maniera forte E beh già, che sì Ah, e questa è la bicchierata della vittoria Ma quella è Don Salvatore, anche lui faceva parte della squadra No, 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 lui ci forniva i camion per disperdere gli scioperanti Ah, ecco Sì che poi erano tutti contadini suoi Ah, e questo? Lo riconoscete? È De Vincenzi E perché sta... Eh, allora non si scherzava Non volle gridare viva il duce E così gli feci fare tre volte il giro della piazza in mutande Poi lo gridò No Comandante, ci sono altre dieci domande di volontari per la Spagna Vai Questi giovanotti sono proprio delle teste calde Vorrebbero partire tutti, tutti A dar retta loro resterebbero in paese donne vecchie e bambini E quelli del circolo Beh, naturalmente Voi sarete certamente il primo No Proprio il primo? No Anzi, credo permettete Prego Credo che il mio nome non ci sia ancora Eh, no, non c'è Che vi dicevo Non c'è Non c'è Salvaglini! Salvaglini! Vieni qua, testo di legno! Venti volte, venti volte Gliel'ho detto a quell'animale di scrivere il mio nome Prego